Secondo i dati UE, una donna su cinque dal quindicesimo anno di età sperimenta la violenza fisica o sessuale, una su set colpita da stalking. In Italia nel 2020 sono state uccise 115 donne e nel solo Alto Adige, dal gennaio 2020 al marzo 2021, ci sono stati quattro femminicidi. Vuol far fronte a questi drammatici numeri la legge Interventi di Prevenzione e Contrasto della Violenza di Genere e di Sostegno alle donne e ai loro figli e figlie, portata in Consiglio Provinciale a dicembre dall'assessora Valtra Adige e approvata dall'Aula con 27 sì e due estensioni. Sulla base della Convenzione di Istanbul del 2011 essa promuove prevenzione, sensibilizzazione, sostegno e tutela istituendo tra l'altro un tavolo di coordinamento dei soggetti impegnati nel reprimere la violenza di genere e un fondo di solidarietà per il patrocinio legale di donne vittime di violenza nonché la possibilità per la provincia di costituirsi parte civile nei procedimenti penali per reati di violenza contro le donne. Questo punto è stato contestato per la sua unilateralità da Suttirole e Freiheit che, contraria anche agli interventi nelle scuole per promuovere ruoli di genere non stereotipati, ha scelto l'astensione. Via Libra con 27 e 7 estensioni anche la legge europea che recepisce nella legislazione provinciale gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea. Molto discusso l'articolo sulla caccia in particolare, dove considera interventi di contenimento di animali selvatici invasivi che il gruppo verde voleva limitare alle specie esotiche. La seduta era iniziata con le consuete informazioni della giunta sulla situazione pandemica. Il presidente della provincia, Compatcher, e l'assessore Widman avevano illustrato l'introduzione del Super Green Pass che permette a persone vaccinate o guarite di non sottostare alle stesse restrizioni delle altre, spiegando che, per il momento, quest'ultime avevano comunque accesso agli impianti scistici. L'efficacia del vaccino, è stato detto, si rileva dal fatto che, nonostante ci si trovi in una nuova ondata, l'occupazione dei letti in ospedale è cinque volte migliore rispetto ad un anno fa. In merito all'obbligo di Green Pass sui bus anche per scolari e scolari, si sarebbe intervenuti presso il governo perché fosse rivisto, non essendo possibile vaccinare in tempo 13.000 giovani. Tra le proposte dell'opposizione approvate quelle del gruppo verde al fine di riconoscere come violenza psicologica il fenomeno del gaslighting. Il tentativo mirato di destabilizzare psicologicamente un'altra persona, quella dei Frei Heitlichen, confirmata dalla SVP e rivolta al Parlamento, per introdurre un servizio civile obbligatorio, quella del Team K, per offrire una formazione nelle zone periferiche e nel settore delle professioni sociali. Per la maggioranza approvata la nozione della SVP che richiedeva il finanziamento seguendo criteri di priorità di progetti di manutenzione straordinaria della rete viaria rurale.